Gigi a tutti ragazzi, sono Alien e sarò davvero molto breve. Sul canale di Ubisoft Italia è stato rilasciato un teaser trailer di Fino alla fine, la prossima espansione di The Division. In questo trailer, che vi lascio in descrizione, si notano alcuni particolari interessanti, come ad esempio la presenza, forse casuale, forse no, di squadre di agenti vestiti di rosso o di blu, come a rappresentare le classiche due squadre di ogni match in multiplayer classico, no? Verso la fine del trailer, invece, si possono notare le due squadre di agenti, blu e rosso, che sembrano puntarsi a vicenda, come se lasciasse di fatto presagire una modalità sicuramente PvP magari dedicata. Vi ricordate il video dove vi ho mostrato quei leak derivanti dal data mining con una possibile modalità PvP dedicata? Beh, ve lo lascio in descrizione nel caso in cui non l'abbiate visto. Beh, in quel video si era parlato di una modalità, appunto, tipo dominio, vista la presenza di punti Alpha, Bravo e Charlie. E giusto per informazione, alla fine di questo trailer, cioè quando viene suggerito di seguire sul canale Twitch di The Division, domani alle 17, in rivia dell'espansione, beh, si sente un la postazione è stata attivata in Alpha. Beh, esattamente come quanto detto nel data mining. E poi si vede una gente che attiva una torretta. Chiaramente in stile San Tommaso, se non vedo non ci credo. Io vi invito a guardare domani pomeriggio alle 17 il reveal sul canale Twitch di The Division, anche se comunque farò un riassunto di quanto detto chiaramente domani. Quindi sì, un po' di novità su The Division e grande, grande curiosità per capirne di più su questa prossima espansione che sempre più prende forma, indirizzata al PvP, evidentemente. Bene, è tutto per questo video cortino, Elien vi saluta, love and peace, agenti!